Remax è un brand internazionale che da quasi 50 anni permette a milioni di persone in tutto il mondo di realizzare un sogno chiamato casa. Per chi affidarti a noi? Per noi la collaborazione è fondamentale. I nostri consulenti possono contare sul supporto di tutte le agenzie Remax del territorio. Collaborano anche con agenzie di altri brands. Valutiamo gratuitamente il tuo immobile e ti aiutiamo ad ottenere il prezzo più alto, negoziando fra te e l'acquirente. Progettiamo campagne marketing professionali e personalizzate su ogni immobile per essere pubblicizzate sui maggiori portali del web e sui principali social network. Comunichiamo costantemente i risultati delle nostre attività. Abbiamo creato un sistema informatico che mette automaticamente in comunicazione venditori e acquirenti. Quindi, affidare la tua casa ad un consulente Remax vuol dire poter contare su tutta la rete dei nostri agenti. Abbiamo importato dagli Stati Uniti l'Open House, un evento che permette di ospitare un numero più elevato di potenziali acquirenti in un'unica giornata dedicata al tuo immobile con visite libere, senza appuntamento. Offriamo una consulenza personalizzata a tutti i possibili acquirenti. Questo ci permette di proporre il tuo immobile ad un target di clienti certificato e affidabile. Ti seguiamo costantemente in tutte le fasi della vendita, fino alla rogito notarile. Affidarsi a noi vuol dire vendere il tuo immobile velocemente e in assoluta sicurezza.